Sono in fase di completamento i lavori per l'estensione della rete per la distribuzione del gas metano nella marina di San Cataldo a Lecce. Gli interventi hanno riguardato l'estensione delle reti cittadine attualmente in esercizio, oltre gli impianti accessori. Un primo tratto di tubazione principale sulla Lecce San Cataldo è una rete a servizio dell'utenza per un totale potenziale di 904 allacci, 223 potenziali residenti e 681 potenziali stagionali. Un progetto che è nato circa un anno fa grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con il Comune di Lecce, è un progetto che complessivamente prevede oltre 30 km di realizzazione rete, un primo step è di 20 km e consente di collegare le marine di Lecce al Comune di Lecce, il secondo step è vincolato al buon risultato della prima fase. Grazie ad una convenzione tra il Comune di Lecce e la 2A e Rete Gas, la realizzazione dell'allacciamento alla rete del gas metano per gli utenti che ne faranno richiesta avrà un costo pari a 200 euro più IVA, costo che comprende anche le opere di scarifica e ripristino con tappetino di usura, anziché 1.500 euro. Questa promozione interesserà la Marina di San Cataldo e tutte quelle aree della città, borghi inclusi, raggiunti dalla rete del gas metano ed ancora prive di allacci. Le marine hanno bisogno di una grande opera di riqualificazione che deve partire dalla base, di una grande infrastruttura e su questo stiamo lavorando, infrastrutture primarie che sono la fogna e l'acqua su cui pensiamo di coprire gran parte delle marine. In questo momento ce ne lavori nella Marina di San Cataldo ma soprattutto il gas, se vogliamo rendere San Cataldo un quartiere immaginario...